Il turismo sul lago del Sangro o di Bomba, gioiello naturalistico della Val di Sangro, al momento è una chimera. Quasi tutti i centri turistici che cingono le sue sponde, che un tempo erano funzionanti e ben avviati, che accoglievano villeggianti, campeggiatori e passeggeri del dismesso treno della valle, sono chiusi e decadenti, qualcuno devastato dai vandali. Sono costati centinaia di migliaia di euro ciascuno e ora sono allo sfascio, anche per l'incapacità gestionale della comunità montana a cui appartengono, per l'assenza delle istituzioni e di politiche di valorizzazione. In conclusione, posti di lavoro persi e degrado. Per denunciare questa situazione sono scesi in campo gli stati generali delle donne d'Abruzzo e la commissione regionale pari opportunità, oltre a diversi cittadini, con un tour tra incuria, strade rotte e abbandono, ma anche volto alla scoperta di scenari incantevoli. Rosaria Anelli, coordinatrice regionale degli stati generali delle donne. Abbiamo pensato di organizzare questa giornata per non dimenticare quanto è stato fatto in passato e per denunciare lo stato attuale dell'abbandono e del progetto di sviluppo turistico del Lago di Bomba. Qui stiamo davanti a una testimonianza di quello che è stato e che non è più. Quindi noi vorremmo, nella denuncia, ritrovare anche delle motivazioni per un rilancio, sempre che ci sia qualcuno che si voglia prendere carico, mi riferisco soprattutto naturalmente alle istituzioni che hanno questa responsabilità, di riavviare questo processo, che per tanti anni ha servito questo territorio, che per tanti anni ha levato il Lago di Bomba e il comprensorio della comunità montana al mercato nazionale ed internazionale e che invece adesso è completamente abbandonato. Esempio del degrado, anche un battello per navigare il Lago con 50 posti, che ora giace tra ruggine e sterpaglia e a cui si sono rubati il motore.